In questo video vedremo come sturare uno scarico, che sia di un lavandino, di un water o di un bidet, questo non importa, il concetto è questo più o meno per tutto. La prima parte di questo video, circa un minuto, sarà più che altro un discorso teorico su come funziona e a cosa serve un sifone, visto che è uno dei punti in cui è più facile che si fermi lo sporco. Cos'è il sifone? Il sifone ce ne sono di tanti tipi, sostanzialmente è fatto così. Il concetto è semplice e al tempo stesso geniale, l'acqua si ferma nella parte a U, in questo modo sigilla, questo per evitare che l'odore che arriva dal tubo dello scarico condominiale venga su fino a impuzzare tutta la stanza, la casa, quello che è. Quindi un'ottima idea, veramente intelligente. Il problema è che spesso questo punto, diciamo, della curva è il punto in cui potrebbe con il tempo, tra sapone, peli, capelli e tutto il resto, bloccarsi. E quindi rendere sempre più lento il passaggio dell'acqua, premesso che ci sono vari metodi per sturare il lavandino. Io personalmente non amo più di tanto i classici sturare lavandini liquidi o a granelli, quelli che si comprano insomma un po' dappertutto, anche al supermercato. Per diversi motivi, principalmente perché bisogna stare veramente attenti. Non so adesso se ci sono dei tipi particolari, però quelli che ho preso io fanno poi una reazione quando arrivano nel punto di sporco, oppure quando c'è l'acqua, quando insomma trovano qualcosa. Fanno una reazione e di fatto schizzano sopra e se c'hai la fascia lì ti prendi o comunque, insomma, sì, si possono usare, facciano attenzione, comunque rischi sempre anche un po' di rovinare perché poi si schizza qualche goccia su, non so, un vestito, uno straccio, qualsiasi cosa sia intorno al lavandino o intorno al water, è molto probabile che poi resti macchiato. Quindi io non adoro queste cose. L'altro sistema, soprattutto quello che di solito fanno gli idraulici spesso, non tutti ovviamente, ma molti lo fanno, è quella pompa. Si toglie il sifone e si spara con un po' di pressione dentro il tubo in modo che dia una spinta e se c'è un tappo questa pressione sgorghi e li faccia andare giù. Anche questo, a parte che l'attrezzatura bisogna comprarsela e non so quanto costi, ma sicuramente più di quello che andremo a vedere dopo. Poi, che se ne dica che comunque sono sicuri perché sicuramente non sono pressioni altissime e sicuramente tengono conto degli scarichi. Però dobbiamo sempre ricordarci che la maggior parte delle volte andiamo a lavorare su parti di scarichi che magari hanno, non lo so, 60 anni, 50 anni, che magari ai tempi neanche si pensava di usare un sistema del genere per sturare. Che non me ne vogliono gli idraulici perché per carità è il loro lavoro. Io personalmente non mi fido tanto di usare qualcosa sotto pressione su un tubo che magari non è nuovo. Poi vabbè, se è un tubo nuovo di questi nuovi di plastica che si usano adesso, non penso ci siano problemi. Adesso arriviamo ai metodi che io di solito uso. Andando dal più semplice e meno invasivo, arrivando a quello più invasivo. Il primo grado, diciamo, quello meno invasivo è usare una ventosa. Questa è quasi un giocattolo, comunque avete capito di cosa parla. Una ventosa ha un manico e come si usa, non penso neanche di dovervelo dire, si fa in modo che ci sia un po' di acqua, ma sicuramente c'è ancora dentro un po' di acqua nella parte dello scarico. Si mette giù in modo da dare una spinta al tempo stesso, anche poi risucchiare. Questo di solito, quando è qualcosa di semplice, magari un po' il sifone che si è un po' intasato nella parte, come vi ho detto, della curva, di solito può essere risolutivo. Non sempre funziona. Allora, il passaggio successivo a questo è smontare il sifone. Per smontare il sifone è una cosa non troppo difficile, neanche troppo semplice. Comunque con un po' di attenzione si può fare. Adesso vi farò vedere come si fa. Adesso vi farò vedere come si può fare. Ok, una volta tolto il sifone, semplicemente si guarda dentro, si smonta più o meno come si può smontare. Poi alcuni sifoni sono diversi, si smontano un po' di più, altri si possono smontare un po' di meno. Comunque di fatto più o meno tutti si possono poi un po' pulire. Se c'era qualcosa lì nel mezzo si toglie, se era quello che ostreva lo scarico è risolto il problema. Se neanche pulendo il sifone l'acqua inizia a defluire, insomma, a scaricare velocemente come dovrebbe, il passaggio successivo è quello di usare una sonda come questa, una molla. Non lo so, a volte la chiamano sonda, a volte la chiamano molla stura lavandini, molla stura scarichi. Quindi di fatto è una molla, al fondo ha questa specie di, diciamo, ricorda un po' il cavatappi, quindi è una cosa di questo, per capirci fa così, con una punta finale e nella parte opposta ha come una manovella, così. Come si usa questo? Si inserisce ovviamente la punta, si spinge giù, fino a che a un certo punto sentiremo qualcosa che la ferma. E sarebbe il punto in cui c'è il tappo che blocca lo scarico. Bisogna fare attenzione a capire che non sia una curva, perché a volte gli scarichi dentro al muro, o comunque anche per terra, fanno delle curve e a volte magari fa un po' fatica a proseguire, però un conto è trovare una curva che bisogna superare. Un altro è capire quando c'è poi un tappo, adesso è una cosa che a spiegare la voce non si riesce, ma il tappo si sente perché di solito è un po' morbido, quindi invece quando è una curva è una cosa netta, questo si punta sulla curva e non va avanti. In quel caso lì basta farlo girare un po' quando è una curva. Questo si piega leggermente in cima e supera la curva, quindi dicevo le curve superarle. Quando ci accorgiamo di aver trovato un punto in cui si ferma, però al tempo stesso non è duro come fosse un pezzo di plastica, un pezzo di metallo, ma è comunque morbido, quello probabilmente è il tappo. Quindi quando ci accorgiamo di quella non spingiamo più forte, semplicemente facciamo con questa manovella che teniamo nell'estremità, la facciamo girare. In questo modo questa parte simile a un cavatappi entra dentro come se fosse un tappo di sughero e aggancia questo tappo. Una volta che abbiamo fatto qualche giro tiriamo indietro, quindi la facciamo di nuovo uscire e qua al fondo si troverà questo tappo di quello sporco che bloccava il tubo di scarico. Poi si rifà di nuovo il procedimento da capo perché magari invece che togliere tutto non abbiamo tolto metà oppure meno, dipende. Per sicurezza si rifà da capo questo procedimento un'altra volta per vedere se effettivamente è libero. Una volta che è libero semplicemente si rimonta il sifone Grazie a tutti. Questo è sicuramente il metodo a parte più economico, più semplice e una cosa che bene o male possiamo fare tutti. Insomma, sì, fa un po' schifo trovare i capelli o quello che è dentro allo scarico però magari vi mettete i guanti come faccio io di solito. Niente, sostanzialmente è questo. Fate attenzione a rimontare tutto, soprattutto le guarnizioni del sifone che a volte uno non si ricorda come vanno messe. Ci vediamo nel prossimo video, ricordatevi di iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto condividetelo. Ciao!